Qual è la missione che l'Università deve avere? Che dobbiamo guardare anche all'albero e non solo alla foresta, quindi al singolo. La natura di questo giovane qual è? Intanto è molto cambiata rispetto al passato anche relativamente recente, 10-15 anni fa, 20 anni fa, insomma, con l'avvento della Università che potremmo definire di massa. Quindi il ragazzo che abbiamo davanti è un ragazzo che ha delle caratteristiche che sono radicalmente mutate rispetto al passato, dove veniva all'Università soltanto, si può dire, le élite sociali, culturali, figli di professionisti, figli di imprenditori, oppure quei pochi giovani che venivano da contesti, diciamo, da classi sociali non elevate, ma che avevano una grande forza di accettare la partita. Quindi quelli erano ragazzi di pochi anni fa, tutto sommato, erano dei giovani che avevano caratteristiche omogenee. Adesso con l'Università di massa noi abbiamo di fronte ragazzi con caratteristiche assolutamente eterogenee. E quindi non possiamo più guardare soltanto alla foresta, ma dobbiamo guardare all'albero, alle esigenze che ciascuno di quei ragazzi ha, con la complicazione che i numeri non ti permettono di avere un dialogo diretto col singolo. Almeno nei corsi di laurea, come quelli nei quali io insegno e con i riferimenti ai quali sono direttore, cioè l'area economica, ma si potrebbe dire altrettanto per l'area ingegneristica e per tante altre. Ecco, quel ragazzo ha bisogno di essere preso per mano, perché probabilmente non ha ricevuto alcune informazioni che le mettono nelle condizioni di scegliere in modo adeguato. Bisogna fargli capire quali sono le esigenze che tre, quattro anni dopo il contesto lavorativo gli chiederà, perché tutto sommato cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo non erogare didattica, conoscenze, come forse poteva essere in passato, dobbiamo contribuire a plasmare, quindi a formare, a dar forma ad un giovane, che quando noi lo prendiamo è sostanzialmente poco più che un adolescente, 19 anni, e trasformarlo, contribuire a trasformarlo nella consapevolezza che noi possiamo dare un contributo, poi ci sono altri che possono dare un contributo, e trasformarlo, contribuire a trasformarlo in un adulto in grado di affrontare con soddisfazione il mondo del lavoro, con soddisfazione. Ecco, quindi noi abbiamo un ragazzo che è cambiato rispetto al passato, e tanti ragazzi diversi, tanti giovani diversi, è un mondo del lavoro che ci richiede dei mestieri che sono assolutamente diversi da quelle che ci richiedeva soltanto dieci anni fa, anche cinque anni fa, ecco. Noi siamo lì nel mezzo, in un mondo che cambia, cambia con riferimento ai giovani che arrivano, cambia con riferimento alle esigenze che ci chiede il mondo del lavoro. E allora bisogna andare sul singolo, come dicevo, no? Un giovane che viene da un contesto sociale o culturale, non evoluto, ma che ha voglia di fare, avrà bisogno di un'accoglienza diversa. Pensa che nel mio dipartimento il 16% delle nostre matricole sono siciliane, numeri elevatissimi, ragazzi calaveresi, campani, che abbandonano la famiglia e vengono in un contesto per loro assolutamente nuovo. Magari vengono da scuole che non sono scuole d'eccellenza, a volte sì, ecco, perché ovviamente anche in tutto il nostro paese abbiamo dal nord al sud realtà di grande valore dal punto di vista formativo, però un ragazzo che viene sradicato dal suo contesto, che senza la responsabilità di pesare sulla famiglia, magari una famiglia umile, e quindi sente la sfida di riuscire a fare qualche cosa di bello, anche pensando all'origine che hai, anche il peso di gravare economicamente sulla famiglia, e tutto questo si trasforma in una tensione emotiva fortissima. Quindi un primo aiuto dobbiamo darlo, non dobbiamo pensare di dover trasferire conoscenza, ma dobbiamo pensare di accogliere questa persona e dargli, si potrebbe dire, dei servizi di contorno rispetto all'erogazione della lezione che creano le condizioni perché lui riesca ad adattarsi in un contesto così diverso. Potrei fare tanti esempi, non sto a farli in questa sede, insomma, magari possiamo pensare cosa che abbiamo fatto a dei centri di ascolto, abbiamo un gruppo di persone che si occupano di temi di psicologia per i giovani e che appunto cercano di dare un supporto a questi ragazzi e c'è un numero crescente di studenti che fa richieste di questo tipo. Cercare di creare dei contesti dentro l'università in cui possono socializzare, possono fare amicizia, possono rapportarsi con i loro pari, dargli delle conoscenze anche, propedeutiche rispetto ai corsi universitari, perché i ragazzi che fanno i corsi universitari possono venire da scuole diverse. Un tempo i giovani venivano da licei, spesso dal classico, a volte dallo scientifico, adesso vengono anche da scuole tecniche, ma spesso sono bravissimi, hanno delle grandi intelligenze e noi dobbiamo però aiutarli a colmare delle lacure che loro hanno. Quindi dobbiamo pensare a questo passaggio, scuola, università, famiglia, contesto sociale e territoriale diverso, per non disperdere dei valori dei giovani che evidentemente potrebbero rinunciare alla sfida che hanno deciso di intraprendere per le difficoltà, non di contenuto, che si trovano di fronte. Quindi su questo ci sarebbe molto da dire, ma il primo grande tema è aiutare i giovani in entrata. Considerate che l'università italiana, il 20, 30, 40, a seconda del corso di studi di matricola, smette di studiare il primo anno. E qui non è che si disperdono i, si potrebbe dire, somari, ci sono anche quelli che non hanno voglia di fare, ma spesso si disperdono dei giovani che potrebbero fare cose importantissime se riuscissimo a metterlo nelle condizioni di rimanere, di proseguire, di integrarsi. L'altro grande tema riguarda l'uscita, evidentemente. L'impresa oggi, il mondo del lavoro oggi, chiede professionalità che sono completamente diverse da quelle che chiedeva vent'anni fa e anche, come dicevo prima, cinque anni fa. Forse non sappiamo neppure quali sono le professionalità che richiederà il mondo del lavoro tra cinque e sei anni. Ecco, su questo i percorsi di studio devono cambiare in modo molto rilevante. Ad esempio, un esempio personale della mia istituzione, nella vecchia, tra virgolette, facoltà di economia, c'era un corso di laurea che era economia e commercio. Adesso nel Dipartimento di Economia dell'Università di Pisa abbiamo 11 diversi corsi di studi. È soltanto l'esempio, diciamo, relativo al mio dipartimento, ma così è anche per altre, per altre università. L'idea è guidare lo studente verso professionalità diverse che emergono nel mondo del lavoro. Quindi dobbiamo abbandonare quella struttura monolitica, solida, non destinata al cambiamento, e adattarci con continuità alle esigenze del mondo del lavoro, non per inseguire il singolo tecnicismo, ma per dare ai giovani la possibilità di muoversi con flessibilità in un mondo del lavoro che cambia e che renderà le sue conoscenze in parte obsolete in tempi brevissimi. Questo è un po' l'aspetto che riguarda la fase di uscita dall'università. In tutto questo noi dobbiamo creare un contesto di dialettiche, di supporto che il docente e le strutture accademiche che devono dare ai nostri giovani per affrontare, ripeto, come dicevo prima, con soddisfazione il mondo del lavoro, per far capire ai giovani che devono guardare, prima di tutto, dentro di loro, cercando di capire qual è la propria identità, quali sono i propri desideri, quali sono le proprie passioni, perché non garantisce più niente il fatto di essere arrivati in economia, in giurisprudenza, in medicina, in biologia, in qualunque altro settore di studi. Mentre in un mondo così ampio, così aperto, se uno riesce a realizzare una formazione che è coerenza con la propria inda e con i propri desideri, ha creato le condizioni e i presupposti per il suo successo professionale.